Buongiorno Frogger, come sei? Voglio mostrarvi due build che ho usato con questo boss e in questo caso ho usato 8 warrants con double berserk e un shackle per il SR15 è buono, come Power Stone, il berserk per il modificatore poi ho usato per la righte, con double berserk poi ho usato Wolves, full def e il mage con double reload e clone per gli artefatti ho usato Warhorn, Ring of Unity e Pendant per gli elisirs ho usato l'immunity elisir per battere e ora spino e vedo quanti damage posso trattare ma ora i miei warrants sono fuori e l'immunity elisir è finita e ho perduto una mezza delle mie docks questo non è davvero buono ma penso che posso distruggirlo senza problemi ok ok l'ho giocato con 38 secondi e vediamo quanti damage l'ho giocato ok l'ho giocato l'ho giocato l'ho giocato l'ho giocato e ora non preoccupatevi per le chies perchè mi piace provare molti stupiti prima le main build per battere il boss poi vediamo come funziona con più elisir e go 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 ok ma il effetto burn che ha matato i miei i 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